io ho i bicchierini dei bambini sono una stupidaggine mi chiedi prendere, vada a prendermi su quel sasso là come a prenderti? ha bisogno di un seguidore su quel sasso là ha detto e faccio scendere da lì? ma non so, dopo vediamo dove arrivi dove vai? devo scendere da lì? giù, in larga e vedo che chiudi? cazzo dalle drezzi bravo, così bravo bravo ok giù scendi e vai a girare giù alla fine è andato su nessuno a prenderti e allora dietro lì e scendi diritto giù giù di qua di qua di qua in di giù quando hai detto mo questo li capiti? quello c'è la tutta hai capito? non sono concentrati stamattina cioè hai capito? non ho mai guidato così mai anche qua figaro si è perso si è perso, si è perso non c'è un cazzo da fare 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 dietro l'albero e scendi diritto dietro l'albero e scendi diritto comunque se metti i piedi lui non è proprio così facile è l'hai fatto bene prima oh non si prova non gli ho stacco vai in zona giusto dai ok non ce la fa non ce la fa non ce la fa cazzo giri c'hai questo c'hai questo qua cazzo appoggi il davanti e va giù vai in dietro vai giù vai dietro l'albero in alto scendi dritto dritto di qua non di là cazzo giri cazzo che cazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti.